E nessuno deve stupirsi, noi siamo un partito autonomista che immagina che l'autonomia sia anche l'altra faccia di una responsabilità e quindi siamo sicuri che lavorando bene con le autonomie, rafforzandole e rafforzando reciprocamente il rapporto fra le autonomie e la dimensione nazionale possa venire una chiave molto importante per dare più efficienza al sistema, per dargli più partecipazione e per mettere a frutto meglio le risorse enormi che queste autonomie possono esprimere e quindi certamente manteremo questo impegno. Insomma, come si fa a parlare male dell'autonomia di Trento e dell'Alto Adige? Io penso che ci siano stati invece dei problemi di rapporto molto seri con il governo centrale, per una questione culturale, per una questione culturale perché nella destra italiana c'è o la propensione leghista a colorare di verde tutte le autonomie mentre invece le autonomie hanno il colore del loro gonfalone, del loro stemma e dal lato della destra berlusconiana una sostanziale non comprensione, una non comprensione di cos'è il concetto di territorio prima ancora che di autonomia. Noi abbiamo una cultura diversa, siamo un partito che è la confluenza di grandi tradizioni politiche e culturali che hanno tutte sempre avuto un profilo autonomistico. Adesso si tratta di rendere queste autonomie più funzionali le prospettive del Paese quindi non è solo questione o tanto questione di soldi, è questione di come si organizzano al meglio i poteri, di come quello che viene gestito centralmente può essere davvero gestito meglio localmente. È un po' un'ingegneria dell'efficienza del sistema e dei suoi meccanismi di partecipazione che possiamo fare assieme e lo faremo. No, io al centralismo non ci credo poco perché ho abbasticato sia il centro che l'autonomia e quindi dopodiché invece credo molto alla responsabilità nazionale, questo sì, ed io sono stanco di anni ai quali si è pensato che ci fossero due, tre, quattro, cinque Italia. L'Italia è una sola, è una sola. Al nord, al sud, però deve reggersi sul protagonismo. Sono un protagonismo, le autonomie sono importanti e le regioni speciali, le autonomie speciali hanno avuto e hanno la possibilità anche di elaborare anche dei modelli. Io quando facevo l'amministratore sono andato spesso a Trento a vedere come si facevano le cose. Poi certo quando tornavo in Emilia dicevo anche, accidenti, io magari non ho le risorse per fare questa cosa, ma qualcosa di quello che faceva Trento io ho potuto importarlo, perché le autonomie sono anche luoghi di sperimentazione, luoghi di innovazione delle politiche, se sanno essere all'altezza delle loro possibilità. E quindi io la vedo così, la leggo così la cosa e sono sicuro che avere questo atteggiamento rafforzerà anche la coesione nazionale. Io ho messo in slogan Italia giusta, questa è la chiave, i sottotitoli sono moralità e lavoro. Bisogna dare assolutamente una scossa, io vedo girato tutta Italia in questo periodo, avevo tanta rabbia in giro, tanta disaffezione, tanto scoramento, tanta sfiducia. Questo deve diventare possibilità di cambiamento e perché sia così bisogna veramente, sui temi della moralità pubblica, della sovraestà della politica, della lotta alla corruzione, dei diritti delle persone, dare un segno molto evidente di cambiamento. Questa è la premessa per poter poi ragionare sui temi più cruciali per la gente, che sono per le famiglie, che ovviamente è il lavoro, no? È il lavoro. E qui ci sono tante cose da fare, le riassumo così, un'appassionaccia bisogna metterci in questa legislatura per l'economia reale, e cioè mettere veramente le orecchie a terra di come è la vita dell'impresa, la vita delle famiglie, la condizione del lavoro, la condizione della disoccupazione, e sapere pur nel rigore, nella ristrettezza, nella difficoltà del momento, che però qualcosa arriva fatto, per muovere un po' di consumi, un po' di investimenti. Questa è la cosa che dobbiamo fare. E qui abbiamo una serie di nostre proposte che manderemo a effetto. Grazie.